4.215 rampelli, 4.217 gigli, 4.218 caparini, 4.219 fili, 4.55 capelli, 4.59 caparini, 4.03 Brunetta, 4.01 Brunetta, parere contrario, Commissione-Governo, favorevole al relatore di minoranze. È aperta la votazione. Vico, no, ha votato. Gadda in arrivo, forza colleghi, capisco, ma dobbiamo… ci siamo? Gadda ha votato. Lì davanti, Palladino, Frusone, Adornato, che si è… è chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo al 4.8 Vacca, parere contrario, Commissione-Governo, favorevole del relatore di minoranze. È aperta la votazione. Capelli, Stella Bianchi, Zanna, Fregolent. Fregolent non riesce a votare.